A Fano prende il via alla Mediateca Montanari dal 2 al 26 settembre l'ottava edizione di Settembre Pedagogico, l'appuntamento del Comune dedicato alle scuole fanesi. Assessore Maghernino, di che cosa si tratta? Nata come iniziativa nel 2017 per mettere in collegamento le scuole con il territorio. È un'iniziativa organizzata sia dall'assessorato ai servizi educativi, ma anche dall'assessorato alla cultura, l'assessore Tarsi e anche in collaborazione con la città dei bambini l'assessore Manocchi. Lo scopo è quello proprio di creare un collegamento in tutta la comunità educante, perché è una comunità fatta non solo dei docenti, degli insegnanti e anche con a servizio il Comune, ma anche tutti gli enti e le associazioni che lavorano qui sul territorio sempre per creare questo momento di formazione. Sono previsti ben 17 appuntamenti che si articolano in workshop, incontri, seminari, rimostre e anche presentazioni di libri per dare spazio un po' a tutti questi soggetti che lavorano e interagiscono nell'ambito dell'educazione nel nostro territorio. È aperta anche a tutte le scuole di ogni ordine e grado. Quali sono invece gli appuntamenti di questa edizione e dove si può consultare il programma completo? Nel programma avremo una mostra di libri in lingua straniera, una mostra nazionale, una mostra di oltre 100 libri, tante lingue diverse, che si potrà visionare negli spazi della Mediateca Montanari. Insieme alla mostra avremo vari workshop, quindi momenti di laboratorio, dove gli insegnanti, ma anche il pubblico interessato a questi temi potranno partecipare, dopo essersi iscritti però, incontri appunto dedicati all'ambiente, dedicati all'alfabetizzazione informativa e all'alfabetizzazione digitale, dedicati all'Europa, al museo, presso il Museo archeologico e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano. Poi una serie di conferenze, i temi saranno quelli dell'inclusione, in particolare le iniziative a cura della GFI. La terza parte del programma è invece dedicata alle presentazioni dei libri, libri rivolti a tutti. I temi che tocca questo sistema pedagogico sono in particolare la pace, l'ambiente e la consapevolezza. Sono tanti gli incontri dedicati all'alfabetizzazione informativa e digitale. Il programma è possibile visionarlo sul sito del sistema bibliotecario del Comune di Fano oppure è possibile venire a prendere una copia cartacea presso la Mediateca Montanari.